Uno scontro frontale tra due auto si è verificato questa mattina lungo la statale 17 nei pressi del Bivio che collega Isernia a Miranda. Una Fiat Panda e una Fiat Punto per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti si sono scontrate. Tre le persone ferite. Vediamo. Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 17 all'altezza del chilometro 176. Poco dopo le 10 non lontano dal Bivio che collega Isernia a Miranda due auto, una Punto rossa che presumibilmente viaggiava in direzione di Isernia ed una Panda color grigio che procedeva in direzione opposta hanno impattato violentemente. Tre i feriti trasferiti d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale veneziale. A bordo della Panda una coppia presumibilmente di 50 anni. Sul posto immediatamente giunti i soccorsi mentre stiamo parlando una squadra di vigili del fuoco sta bonificando l'area per ripristinare il prima possibile il traffico veicolare già da quasi un'ora interrotto. Quello che salta all'occhio è la situazione delle due auto coinvolte nel sinistro, praticamente distrutta la Punto nella parte anteriore, gravemente danneggiata anche la Punto al vaglio dei carabinieri, la ricostruzione della dinamica dell'incidente.